Guardi, non è una questione di padagna o non padagna, è una questione molto semplice. Noi abbiamo sostanzialmente due situazioni, una culturale ed economica, quella culturale principalmente viene rappresentata da regioni del nord-est, nel Veneto in particolare, che non si riconoscono in una situazione nazionalistica ed è per quello che noi osteggiamo il più possibile la riforma costituzionale. L'altra è una questione economica. Noi siamo persone che tutti gli anni, in Lombardia per esempio, fanno un utile di bilancio di 50 miliardi di euro all'anno, quell'utile di bilancio viene spazzato via e noi pensiamo che in una situazione come questa non ci possiamo più stare. Per cui merito ed onore ai catalani che hanno semplicemente detto pensiamo di far meglio da soli e io credo che sia una vittoria anche della democrazia quella della Catalogna, una vittoria della democrazia che in Italia non può essere compresa al momento perché in Italia dal mio punto di vista ci sono dei limiti democratici notevoli visto che ci governa un Presidente del Consiglio che non è mai stato...